io ragazzi mi sono veramente stancato mi sono veramente stancato sono stufo sono stufo di vedere queste queste cose sono stanco non ce la faccio più ma come si fa io dico come si fa anche con il cervello con il cervello come si fa dare un calcio di rigore del genere e fare un'espulsione così dare un'espulsione così ma chi ha assegnato questo arbitro ma chi l'ha assegnato ma ma possibile mai che il milan debba sempre subire torti arbitra sempre 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 in champions league sempre li subiamo io non posso analizzare una partita che non esiste sta partita non esiste non esiste non la posso giudicare mi rifiuto di giudicarla mi rifiuto di analizzarla non esiste mai una cosa del genere il milan era partito bene e voi l'avete rovinata l'avete rovinata la partita l'avete rovinata vergognatevi vergognatevi come fa ditemi come faccio ad analizzare una partita del genere con un furto del genere come faccio ma possibile che il milan ogni volta che va in europa ogni volta ogni volta deve subire queste ingiustizie ogni santa volta ogni santa volta becchiamo l'arbitro handicappato ogni santa volta e basta ma come si fa ma come si fa veramente cioè ma ma poi eravamo partiti bene ma voi siete degli assassini siete scusate voi siete degli assassini siete degli assassini a fare una cosa del genere siete dei delinquenti siete io veramente sono sconvolto sono sconvolto noi adesso abbiamo in discussione una qualificazione che era già nostra noi avevamo in mano una qualificazione e in due partite in due partite basta questa qualificazione è già messa a rischio boh adesso la prossima contro la la dinamo zagabria che in casa in casa la dinamo zagabria è imbattuta in questo girone è imbattuta e noi dobbiamo andare lì a vincere dopo una partita del genere come faccio a non essere in mala in mala fede come faccio a non aver paura della prossima partita che ce la possano piazzare ancora in quel posto ma come faccio come faccio avere fiducia come faccio come faccio partiamo bene a differenza della partita stanford bridge partiamo bene e dopo 20 minuti succede sto proprio qua sto orrore questo è un orrore non è un errore arbitrale un orrore arbitrale che non dovrebbe esistere ce l'avete uccisa la partita siete degli assassini soprattutto tu arbitro del cazzo che non mi ricordo manco come ti chiami ovviamente tedesco perché i tedeschi con noi ce l'hanno da tutta la vita e ovviamente anche nel calcio ce la dovete piazzare in quel posto vero ah va dai su ma come fa ma come si fa dai ma non posso non posso analizzare una parte una partita del genere non la posso analizzare basta ciao commentate dite la vostra iscrivetevi fate quello che volete